Ciao, sono Edoardo, questo è il mio primo campare, fresco. Despedida, desolteiro, do cabroncito lanceto. Lanzo si sposa. Eccolo! Ok, va. L'importante è mantenere lo sposo idratato. Il maiale con le vongole. Quanto è Corso Como? Pochissimo. Eccolo! E' acqua, è acqua! Qua è una pizze tornata che posso scrivertela anch'io? E' tutto online. L'anceto che ti ha dato il numero. Uomo. Per la cena di stasera io e il Bembre sono venuti al mini prezzo. Abbiamo deciso di fare un bel giro pizza. Tondo e bacon deve essere particolare. E adesso stiamo andando a guardia. Oh, ma il giro pizza? C'è entusiasmo? Pizza barbecue! Buongiorno. 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 Buongiorno a tutti. 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 Sous-titrage ST' 501